Si è aperto alle 9 in punto e subito è stato rinviato al pomeriggio il processo per il rogo di via Toscana. Sul banco degli imputati fratelli Massimo e Giacomo Pellegrini, soci dell'immobiliare proprietaria del capannone occupato dalla confezione Teresa Moda, distrutta da un incendio lo scorso primo dicembre, sette gli operai cinesi morti, giudicati con rito immediato i due imprenditori italiani, mentre i tre cinesi finiti nel processo perché ritenuti gestori di fatto dell'azienda hanno scelto il rito abbreviato. Davanti al giudice monocratico Giulio Fanales e al pubblico ministero Lorenzo Gestri si sono costituite le parti civili, il comune di Prato, la CGL provinciale, regionale nazionale, CISL, UIL e INAIL, costituiti naturalmente anche i parenti delle sette vittime e una ventina di persone in tutto, e l'operaio che riuscì a mettersi in salvo. Il sindaco Biffoni dunque ha proseguito sulla strada già intrapresa dall'ex sindaco Cenni, con una differenza però, quest'ultimo si era affidato a un avvocato esterno, mentre l'attuale primo cittadino si avvale dell'ufficio legale del comune. Il giudice ha sospeso l'udienza su richiesta degli avvocati che difendono i fratelli Pellegrini, oggi assenti, la necessità di vagliare le carte inerenti le costituzioni di parte civile alla base della richiesta. Nel pomeriggio si comincerà con lo stabilire se tutte le parti civili entreranno oppure no nel processo. I difensori degli imputati hanno chiesto anche la citazione del responsabile civile, l'immobiliare MGF.